Quando finalmente trovammo un appartamento, una fermata di metropolitana più in là di Gropiustat, a Rudolf, non era proprio l'ideale. Klaus era quasi sempre a casa da noi e in un certo senso ci stava tra i piedi. In realtà era sempre molto gentile, solo che semplicemente stava in mezzo, tra me e mia madre. Dentro di me non lo accettavo. Da lui, che aveva appena passato i vent'anni, non volevo farmi dire niente, reagivo sempre con aggressività. Poi ci scontrammo anche, per stupidaggini. Talvolta questi scontri li provocavo io. In più delle volte era per via dei dischi. Per il mio undicesimo compleanno, mia madre mi comprò un giradischi, una baracchetta, che aveva un paio di dischi, disco music, musica da mocciosetti. La sera mettevo su un paio di dischi e alzavo talmente il volume che era una roba da spaccare i timpani. Una volta Klaus entrò nella mia stanza e disse che dovevo abbassare il volume. Io non lo feci. Lui ritornò e tolse il braccio del giradischi dal disco. Io ce lo rimisi e mi misi davanti al giradischi, così che lui non ci poteva più arrivare. Mi prese per un braccio e mi tolse da lì. Come quest'uomo mi toccò, diedi di matto. Quando avevamo questi scontri, mia madre si schierava sempre con prudenza dalla mia parte. Questo era di nuovo una cazzata perché allora lo scontro tra me e Klaus si trasformava in un litigio tra lui e mia madre ed io mi sentivo in qualche modo in colpa. C'era qualcuno di troppo nell'appartamento. Ma la cosa peggiore non era il fatto che di tanto in tanto avessimo degli scontri. La cosa peggiore era quando in casa tutto era tranquillo, quando tutti eravamo seduti in un soggiorno e Klaus vogliava una rivista e si metteva a girare tutti i canali della televisione. Quando mia madre cercava di parlare un po' con noi e un po' con il suo amico e nessuno reagiva. Questo era terribilmente sgradevole. Mia madre e io ci accorgevamo che eravamo in troppi in quel soggiorno. Quando dicevamo che volevamo di nuovo uscire, nessuno ci diceva qualcosa in contrario. Klaus perlomeno ci sembrava che fosse proprio contento quando noi andavamo fuori. Per questo restavamo per strada quanto più spesso e più a lungo era possibile. A posteriori non faccio a Klaus alcun rimprovero. Lui aveva infatti appena vent'anni. Non sapeva che cosa era una famiglia. Non valutava nella giusta misura quanto noi dipendevamo da nostra madre e lei da noi. Quanto noi avevamo bisogno di lei completamente in quel poco tempo che la vedevamo la sera e ai fini settimana. Sicuramente lui era geloso di noi e noi di lui. Mia madre voleva essere lì per noi e non voleva perdere il suo amico. E di nuovo era pressata da troppe richieste. A questa situazione reagivo con rumore ed aggressività. Mia sorella al contrario diventava sempre più silenziosa e soffriva. Certamente lei stessa non sapeva con precisione per cosa soffriva. Ma molto spesso diceva che voleva andare a vivere da mio padre. Questa per me era un'idea folle dopo tutto quello che noi avevamo passato. Ma adesso veramente ci offriva di andare da lui. Era come cambiato da quando non stava più con noi. Aveva un'amica giovane e si mostrava sempre di buon umore quando lo incontravamo. Si comportava proprio in un modo simpatico. E lo era diventato realmente. Mi regalò di nuovo un alano, una cagna. Compii i dodici anni. Mi venne un po' di seno e cominciai a interessarmi dei ragazzi e degli uomini in modo curioso. Erano per me degli esseri strani. Erano tutti brutali. Tanto i ragazzi più grandi che stavano per strada quanto mio padre e a modo suo anche Klaus. Avevo paura di loro. Ma mi affascinavano anche. Erano forti e avevano potere. Erano come a me sarebbe piaciuto essere. Il loro potere, la loro forza e in ogni caso mi attraevano parecchio. Cominciai a passarmi ogni tanto il pettine nei capelli. Con la forbicetta me li tagliai un po' più corti davanti e me li pettinai tirati da un lato. Cominciai a trafficare con i miei capelli. Non volevo più mettermi quegli insipidi pantaloni a quadretti da bambina. Ma volevo avere i jeans. Li ebbi. Volevo assolutamente avere scarpe con i tacchi alti. Mia madre mi diede un suo vecchio paio di scarpe. Con i miei jeans e con i tacchi alti stavo per strada quasi ogni sera fino alle 10. A casa mi sentivo schifata. Ma trovavo anche bella la libertà che avevo. Forse ci godevo anche a litigare con Klaus. Avevo la sensazione della mia forza a litigare con un adulto. Mia sorella non reggeva tutto questo. Fece qualcosa che per me fu inconcepibile. Si trasferì da mio padre. Perse mia madre e soprattutto me. Io adesso ero ancora un po' più sola. Per mia madre questo fu un colpo tremendo. Piangeva di nuovo. Di nuovo stava in mezzo tra le sue bambine e il suo amico e non veniva a capo dei suoi problemi. Credevo che mia sorella sarebbe tornata presto. Ma a lei piaceva di stare con mio padre. Riceveva dei soldi per le sue spese. Lui le pagava le ore per cavalcare e le regalò un paio di veri pantaloni da cavallerizza. Per me tutto questo era proprio duro. Le ore di cavalcate le le dovevo continuare a pagare con il lavoro di stalla. Ma questo non c'era sempre. Mia sorella con i suoi eleganti calzoni da cavallerizza presto seppe cavalcare molto meglio di me. Di tutto ciò ebbi presto un risarcimento. Mio padre mi invitò a fare un viaggio in Spagna. Alla fine della sesta classe ebbi dei buoni voti e quindi potevo essere proposto per frequentare il ginnasio. Veni iscritta al ginnasio unificato di Groviustat. Dunque, prima che cominciasse una nuova fase della mia vita che sarebbe dovuta terminare con la licenza liceale, partii con mio padre e con la sua amica per la Spagna, per Torre Molinos. Fu una vacanza assolutamente perfetta. Mio padre era eccezionale. Notavo che in qualche modo mi voleva anche bene. Adesso mi trattava quasi come un'adulta. Potevo persino uscire la sera con lui e con la sua amica. Lui era diventato più ragionevole. Adesso aveva degli amici più simili a lui e aveva raccontato a tutti che era già stato sposato. Non dovevo più chiamarlo zio Richard. Ero sua figlia. E lui mostrava di essere realmente orgoglioso che io fossi sua figlia. Tuttavia, tipico di lui, avevo organizzato le vacanze in modo tale che rispondessero alle esigenze sue e della sua amica, e cioè al termine delle mie vacanze scolastiche. Ed io entrai esattamente con due settimane di ritardo nella nuova scuola. Dunque, iniziavo proprio con le assenze. Arrivai nella nuova scuola che mi sentivo molto estranea. Ma la cosa più importante era che nelle due settimane nelle quali ero ancora in Spagna, agli altri era stato già spiegato il sistema del ginnasio unificato, che è abbastanza complicato per chi arriva dalla scuola elementare. Gli altri erano stati aiutati nella scelta dei corsi che frequentavano. Io stavo lì abbastanza isolata. Non avevo proprio la capacità di realizzare quello che succedeva in questa scuola. E non l'avrei mai avuta. Non c'era più un insegnante di classe, come nella scuola elementare, che si poteva occupare dei singoli scolari. Ogni insegnante faceva lezioni a circa 200 studenti, distribuiti in diverse classi e corsi. Se uno vuole prendere la licenza liceale al ginnasio unificato, deve sapere da solo come vanno le cose. Lì bisogna decidere di imparare in maniera autonoma. Lì bisogna fare in modo di entrare nei corsi supplementari. Oppure i genitori ti dicono «Fai questo, fai quello» e ti stimolano. Io semplicemente non capivo proprio un accidente. Non mi sentivo inserita nella scuola. Gli altri avevano un vantaggio di due settimane. In una nuova scuola è un grosso vantaggio. Anche qui tentai la formula che avevo sperimentato nella scuola elementare. Interrompevo gli insegnanti, contraddicevo. Qualche volta perché avevo ragione, qualche volta solo così. Lottavo di nuovo contro gli insegnanti alla scuola. Volevo un riconoscimento. La più forte nella mia classe era una ragazzina. Si chiamava Cassie. Aveva già un vero seno. Sembrava perlomeno di due anni più grandi di noi altri ed era anche più adulta. Era riconosciuta pienamente da tutti. Il mio più grande desiderio era che Cassie diventasse mia amica. Cassie aveva anche un ragazzo ed era un sacco forte. Si chiamava Milan. Era alto perlomeno un metro e settanta. Aveva capelli lunghi, neri, riciuti, che gli arrivavano fino alle spalle. Portava i jeans stretti e gli stivaletti raffinati. Tutte le ragazze stavano appresso a Milan e Cassie non era riconosciuta solo per il suo seno e il suo atteggiamento adulto ma anche perché Milan era il suo ragazzo. Noi ragazzi, allora, avevamo un'idea precisa di cosa fosse un bel ragazzo. Non doveva andare in giro con i pantaloni larghi ma doveva portare jeans stretti da schiattare. I ragazzi con le scarpe da tennis li trovavamo orrendi. Dovevano portare scarpe alla moda. Le meglio erano gli stivaletti col tacco decorati. Trovavamo stupidi i ragazzi che in classe tiravano palle di carta o torsoli di mela. Erano gli stessi che durante la pausa bevevano latte nel cortile e calciavano il pallone come bestie. Forti erano quelli che nella pausa sparivano nell'angolo dei fumatori e quello che dovevano bere era birra. Mi ricordo ancora come rimagi colpita quando Cassie mi raccontò che Milan si era un sacco sbronzato. Io pensavo continuamente a come potevo diventare perché uno come Milan mi attaccasse bottone e magari venisse con me. Oppure, ed era in effetti lo stesso, perché Cassie mi accettasse. Già il suo nome lo trovavo un sacco forte ed io volevo arrivare tanto in là da farmi dare un soprannome così. Mi dissi, ma che te ne frega in realtà degli insegnanti che al massimo li vedi per un'ora. Perché dovesti piacere a loro? L'importante è che ti accettino le persone con le quali tu stai sempre insieme. Quindi agli insegnanti gliele facevo di tutti i colori. Non avevamo nessun rapporto personale con loro. Questo alla maggior parte sembrava che gli fosse comunque indifferente. Loro non avevano nessuna autorità. Gridavano e basta. Io speravo a zero. Presto potevo montare tutta la classe e mandare a puttane l'ora di lezione. Questo naturalmente mi portò un riconoscimento. Ora cimolavo soldi per comprarmi sigarette e poter andare nell'angolo dei fumatori. Cassie ci andava durante tutte le pause e da quando anche io arrivai all'angolo dei fumatori notai che Cassie mi accettava sempre di più. Adesso noi ci fermavamo a chiacchierare anche dopo la scuola. Infine mi invitò a casa sua e insieme bevemo birra finché non mi sentì un po' strana. Parlamo delle nostre storie a casa. A Cassie le cose erano andate come a me. In realtà lei veniva da una situazione ancora più di merda. Cassie era infatti figlia illegittima. Sua madre cambiava spesso l'amico e questi uomini naturalmente non accettavano Cassie. In quel momento aveva giusto appena passato un periodo brutto con un tipo flippato amico della madre. Lui l'aveva anche picchiata e un giorno aveva demolito tutto l'arredamento dell'appartamento e alla fine aveva gettato il televisore fuori dalla finestra. Solo che la madre di Cassie era diversa dalla mia. Cercava anche, al contrario della mia, di essere molto severa. Cassie doveva tornare a casa quasi tutte le sere prima delle otto. Alla fine a scuola sfondai. Cioè, sfondai nell'ottenere il pieno riconoscimento dei miei compagni di scuola. Era una lotta dura, continua. Per studiare non rimaneva più tempo. Il giorno del mio trionfo fu quando mi potetti sedere vicino a Cassie. Da Cassie imparai a marinare la scuola. Quando non ne aveva voglia, rimaneva semplicemente delle ore fuori a incontrarsi con Milan o per fare qualche altra cosa che la divertiva. All'inizio avevo strizza di marinare la scuola. Poi mi resi conto che non si accorgevano quasi mai quando uno se la svegnava per qualche ora. Solo alla prima ora venivano segnati gli assenti. E le ore successive gli insegnanti avevano troppi studenti per riuscire ad avere un'idea di chi c'era e chi no. E per molti chi c'era e chi no era indifferente. A quel tempo Cassie dai ragazzi già si faceva baciare e toccare. E già andava nelle house termite che era un circolo per giovani della chiesa evangelica con una specie di discoteca nella cantina, il club. A club ci si poteva andare se si avevano 14 anni ma di Cassie non si vedeva che ne aveva ancora solo 13. Io implorai mia madre con tanta insistenza che alla fine mi comprò un recipetto. In effetti non ne avevo ancora bisogno ma mi faceva il seno più grande. Cominciai anche a truccarmi e allora Cassie mi portò nella cantina che si apriva alle 5 del pomeriggio. Nella cantina la prima persona che notai veramente fu un ragazzo della nostra scuola. Andava nella nonna classe e in quel momento era per me il tipo più forte della scuola. Ancora più forte di Milan. Era più bello. Soprattutto pareva uno tremendamente sicuro di sé. Nella house termite si muoveva come una star. Si notava che lui si sentiva al di sopra di tutti. Si chiamava Piet. Piet faceva parte di un gruppo che stava sempre in disparte. In ogni caso loro davano l'aria di non essere come gli altri ragazzetti che stavano in giro. Tutto il gruppo era di un forte e pazzesco. Tutti i ragazzi avevano un aspetto figo. Portavano jeans stretti da schiattare, stivaletti con la suola altissima e giacche di jeans ricamate. O giacche tipo fantasia fatte di tapezzeria o di altre belle stoffe. Cassie conosceva questi ragazzi e mi presentò a loro. Io ero agitata e trovavo stupendo che Cassie mi poteva far avvicinare questi ragazzi. Perché tutti gli altri in alhouse termite avevano un timore reverenziale di questo gruppo. Noi addirittura ci potremmo sedere con loro. Quando la sera dopo arrivai alla cantina, questi del gruppo avevano portato un grosso anarchie. Io non sapevo che cos'era. Cass mi spiegò che fumavano hashish. Io sapevo solo che l'hashish era una droga e che era terribilmente proibita. Accesero quell'affare e fecero girare il tubo del narghiglie e ognuno dava un tiro. Anche Cassie. Io rifiutai. In realtà non volevo rifiutare. Perché volevo far parte del gruppo. Ma semplicemente non avevo ancora bisogno di fumare una droga. Ne avevo ancora realmente paura. Mi sentivo molto insicura. Quello che avrei voluto fare più di tutto era scomparire. Ma non potevo andare via, alzarmi da quel tavolo, perché così avrei dato a vedere che con questo gruppo io chiudevo perché si fumava la hashish. Allora dissi che in realtà mi tirava di più la birra. Raccolsi le bottiglie vuote che stavano sparse in giro. Ogni quattro bottiglie vuote ti davano 80 penni o una bottiglia di birra. Mi ubriacai per la prima volta in vita mia mentre gli altri stavano sbracati intorno a narghie. Parlavano di musica. Di un tipo di musica che io ancora non capivo molto. Io sentivo volentieri il genere Belenso. Era per tutti i gruppi che facevano musica da mocciosetti. Quindi comunque non avrei potuto partecipare al discorso ed era un bene che fosse ubriaca. Così non mi venivano sensi di inferiorità tremendi. Mi resi conto presto qual era la musica che loro trovavano forte e anch'io subito dopo stavo appresso a quella musica. David Bovy e roba così. Per me i ragazzi che conoscevo erano loro stessi delle star. Da dietro erano tutti dei David Bovy in originale anche se avevano solo 16 anni. Quelli che facevano parte del gruppo erano superiori per una dimensione che per me era del tutto nuova. Non erano rumorosi non si picchiavano non si davano arie. Erano molto silenziosi. La loro superiorità mostravano di averla semplicemente da se stessi. Fra di loro anche si comportavano in maniera molto liscia non c'era mai una lite e ognuno del gruppo quando arrivava veniva accolto dagli altri con un bacetto sulla bocca. I ragazzi in realtà erano quelli che davano il tono ma le ragazze erano accettate. In ogni caso non c'erano quelle stupide lotte tra ragazze e ragazzi. Un giorno marinai di nuovo la scuola insieme a Cassie le due ultime ore. Cassie si era data appuntamento con Milan alla fermata della metropolitana. Giravamo quindi attorno alla stazione della metropolitana aspettavamo Milan e stavamo attenti agli insegnanti che a quell'ora potevano spuntare da qualche parte. Cassie si stava giusto accendendo una sigaretta e io vidi Piet e il suo amico Cati che pure era uno del gruppo. Questo era un momento che avevo sognato spesso. Avevo sempre voluto incontrare durante il giorno Piet o chiunque altro del gruppo e quindi volevo chiedergli se voleva venire con me a casa. Dai ragazzi non volevo nulla. I ragazzi in quanto uomini ancora non mi interessavano assolutamente per niente. Avevo solo 12 anni e non avevo avuto ancora neanche le mie cose quello che volevo era questo poter raccontare che Piet era stato a casa mia. Gli altri allora avrebbero pensato che io andavo con lui o comunque che ero proprio dentro questo gruppo così figo. Lì dunque c'erano Piet e Cati e a quell'ora a casa nostra non c'era nessuno perché mia madre e il suo amico di giorno lavoravano. Disse allora Cassie andiamo da quei due a fare un po' di chiacchiere mi batteva il cuore ma dopo un paio di minuti già chiedevo a Piet in maniera del tutto sicura non avete mica voglia di venire da me non c'è nessuno e l'amico di mia madre ha un paio di dischi paraculissimi. Avevo già imparato un sacco di cose non solo la musica che a loro piaceva ma anche la lingua che parlavano era diversa come del resto tutto in loro mi ero concentrata sulle frasi che avevo sentito dire da loro per me erano più importanti dei vocaboli inglesi o delle formule di matematica pietecati ci stettero subito io ero terribilmente contenta ero tutta sicura di me a casa ho detto merda gente non ho niente da bere e tutti abbiamo messo insieme le nostre monete ed io sono uscita insieme a Cassie siamo andati al supermercato la birra era troppo cara ci voleva qualche Marco per stravolgersi un po' compramo una bottiglia di vino rosso da un litro per un Marco e 98 lo chiamavano il vino dei poveracci ci bevemmo tutta la bottiglia e chiacchierammo si parlava soprattutto della polizia piet disse che adesso bisognava fare un'attenzione d'inferno alla madama per via del fumo lo chiamavano il fumo si incazzavano sulla polizia e dicevano che il nostro era uno stato di polizia per me era tutto terribilmente nuovo fino a quel momento come tipi autoritari conoscevo in realtà solo i portieri che bisognava odiare perché ti erano sempre dietro quando uno si divertiva i poliziotti erano ancora per me un'autorità inafferrabile imparai adesso che il mondo dei portieri di Gropiustat era un mondo di poliziotti e che i poliziotti erano molto più pericolosi dei portieri quello che Piet e Cati dicevano era comunque per me verità pura e definitiva quando il vino finì Piet disse che a casa aveva ancora del fumo perché altri era una gran festa Piet uscì passando per il balcone adesso noi abitavamo al piano terra e anch'io la maggior parte delle volte uscivo dal balcone mi piaceva un sacco dopo gli anni passati all'undicesimo piano Piet tornò con un tocco di fumo che era grande quasi come una mano lo divisa in pezzi da dieci marchi tirò fuori il kilom era un tubo di legno lungo circa 20 centimetri sopra lo riempì prima col tabacco in modo che non si dovesse fumare fino al legno quindi mischiò tabacco e hashish e sopra ci aggiunse quella mistura per fumare bisognava piegare la testa all'indietro e tenere in alto il tubo possibilmente perpendicolare in modo che non si perdesse neanche una caccola di fumo io osservai con attenzione come facevano gli altri mi era chiaro che ora che avevo pietecati a casa non potevo dire di no dissi quindi tutta tranquilla oggi anche a me mi tira il fumo e feci dei gesti come se di kilom me ne fossi fatti chissà quante volte avevo lasciato giù le persiane nella luce che penetrava dalle stecche si vedevano spesso nuvole di fumo avevo messo su un disco di david bovi e tirai dal kilom e trattenne il fumo nei polmoni fino ad avere uno scoppio di tosse tutti erano silenziosi ognuno era partito da qualche parte e ascoltava la musica aspettai che mi accadesse qualcosa pensavo adesso che hai preso la droga ti deve succedere qualche cosa di nuovo pazzesco ma in realtà non sentivo proprio niente mi sentivo solo un po' brilla ma questo veniva dal vino non sapevo ancora che la maggior parte della gente la prima volta che fuma a shish non sente niente ti vuole un po' di esercizio regolare per avvertire consapevolmente il feeling che dà la shish l'alcol ti dà in testa molto di più vedi come Piet e Cassie che stavano sul divano si accostavano l'uno all'altra Piet carezzava il braccio di Cassie dopo un po' si alzarono andarono nella mia stanza e chiusero la porta adesso ero sola con Katy si sedette vicino a me sul bracciolo della poltrona e mi mise il braccio intorno alle spalle trovai subito Katy ancora meglio di Piet ero piuttosto contenta che Katy fosse venuto vicino a me e mostrasse di interessarsi a me io avevo sempre paura che i ragazzi mi vedessero come una che ha 12 anni e mi trattassero come una ragazzina Katy cominciò a carezzarmi a quel punto non sapevo più se queste carezze mi andavano bene mi venne un caldo tremendo credo che fosse per la paura stavo seduta immobile come una statua e cercavo di dire qualcosa sul disco che suonava quando Katy mi prese il seno o meglio quello che sarebbe dovuto diventare un seno mi alzai e andai a giradischi e lì ci rimasi a girare intorno all'infinito a quel punto pieta che essi ritornarono dalla mia stanza avevano un aspetto strano erano stravolte e in un certo senso tristi Cassie era tutta rossa in viso i due non si guardavano in faccia e non dissero più neanche una parola ebbe la sensazione che Cassie avesse avuto una brutta esperienza un'esperienza che comunque sicuramente non aveva dato nulla che per entrambi doveva essere stata insoddisfacente alla fine pieta mi chiese se la sera sarei andata alla house termite questo di nuovo mi rese felice avevo raggiunto un sacco di cose erano andate esattamente come avevo sognato che invitavo pieta e catti da me a casa e che facevo per davvero parte del gruppo